5.100 Si parla di lupi ma in questo caso di che convivenze felici anche domani 10.50 su questa rete, su rete 4 nel programma Dalla parte degli animali. Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali con tante storie emozionanti che vi commuoveranno, vi faranno sorridere, vi parleranno d'amore. Lei è lì tremenda, disubbidiente, fa quello che vuole, questa è Brice, pigra, più docile, più intelligente, furbacchiona, ecco sta qui dorme. Ci sono ovviamente degli attacchi dei lupi al bestiame domestico, ovviamente in particolare alle pecore, però non è la strage diciamo che viene raccontata sui giornali, in realtà ci sono tanti esempi di ottima convivenza tra allevatori e lupi. Ciao sono Sofi, sono un'ameticcia di quasi 10 anni, vivo in campagna e sono la più cara amica di Patrizia Pellegrino. Io vi do appuntamento domenica prossima per una nuova domenica in famiglia, una nuova domenica italiana, una bellissima domenica dalla parte degli animali.